C'hai il traghetto alle nove. La tua consorte che non vuole fare le corse, vuole fare le cose con calma, decide di farti partire un po' prima. Alle quattro di notte. Arrivi al porto, sei sempre mezzo addormentato, ci vedi così e così, t'appicciano sul vetro quel fogliettino che uno m'ha capito a cosa serve. Te l'appicciano proprio con violenza. Pum! Biglietto? Eccolo. Perfetto, buon viaggio! Pum! E t'appiccia il foglio sul vetro. E meno male se hai in macchina e te l'appiccia sul vetro. Cioè, chi va al motorino? Certe legnate sul casco. Buon viaggio! Pum! Certi legnate! Entri dentro il garage della nave dove ci sono delle temperature vulcaniche. Tutte le macchine, camion, camper, tutto acceso dentro sto garage. C'è un fummaio dentro impressionante. Ci sono anche le macchine a gasolio un po' più vecchiotte che fanno proprio le fummate nere. C'hai un camper a fianco che ti ha messo praticamente la marmitta in bocca. Pop, 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 pop! Se fai un respiro profondo ti metti in moto anche te. In mezzo a quel fummaio intravedi un cartello vietato fumare. Sono rimasto un po' perplesso, poi alla fine ho capito. Con tutta la benzina e c'è nell'aria. Se accendi la sigaretta si sarti per aria. I parcheggiatori nel garage della nave. Sono incazzati neri. Incazzatissimo. Ma vado! Ma vado! Ti ho detto! Con fischietti. Rigore! Ma come arbitro? Sei buttato! Finalmente parcheggi la macchina. Sei completamente disidratato. L'acqua che c'hai in borsa è cardapiscio. Ci può fare la pasta. Sicché vai verso il bar. Ti metti in fila. Dopo mezz'ora sta a te. Salve, volevo una bottiglietta d'acqua e un caffè. Lo scontrino? M'ha fatto lo scontrino? Devi farlo scontrino. Ti metti in fila per farlo scontrino. Una bottiglietta d'acqua e un caffè. 12,50 euro. Vabbè, hai sete e le piglie. La gente inizia ad accamparsi. Fanno i fortini con cuscini delle seggiole, con le valigie. Con materassini gonfiabili, con canotti. Certe baraccone. Gente fa anche il recinto per il cane. Te sei positivo. Ti convinci che tanto passeranno presto queste otto ore. Voleranno. Ti metti a sedere su una portoncina che non c'ha neanche lo schienale e ti c'addormenti così. Nonostante la posizione riesci ad appisolarti. Dormi un paio d'ore e poi ti sveglia la tua parlante. Avvisiamo ai gentili passeggeri che il ristorante self-service è a vostra completa disposizione. Alcuni, a sentire il nome ristorante, non resistono alla tentazione. Devono mangiare. Si arziano tutti i torti e vanno al bar. Tutta la gente d'intorno li guarda. Un pezzo di pizza. Dalla sala parte un boato. Oh, ha preso la pizza, ha visto? 27,80 euro un pezzo di pizza. Si alza un altro, disperato, sta quasi per piangere. Non ce la fa neanche a parlare. Perché lo sa che sta facendo una stronzata. Un toast. A quel punto parte l'applauso. 58 euro. Te resisti. Anche perché con la fame che hai con un pezzo di pizza ti ci tappi le carie. Un buttici un nulla. Ma al ristorante non ci puoi andare. Passano altre due ore. Moi di fame ma un ci pensi. Informiamo i gentili passeggeri che il ristorante self-service è a vostra completa disposizione. Bastarda. Brucerai all'inferno. Basta, non ce la fai più. Farò un finanziamento. Vai al ristorante e vedi il menù a partire da 15 euro a testa. Basta, cerchito atto. Prendi un primo e una bottiglietta d'acqua. Vai a pagare 45 euro. Come? Avevo letto 15 euro a testa o c'ho tre teste o avete sbagliato a scrivere. Poi ti spiegano che è a partire da 15 euro a testa. Con 15 euro ti danno un bicchier d'acqua di mare, una bustina di sale e una bustina d'olio. Così ti ci puoi condire le mani e ti mangi le unghie. Finalmente dopo otto ore sei arrivato. Malnutrito e disidratato ti dirigi verso il parcheggio ma la macchina non c'è. Non si sa come mai ma non c'è. Chiedi a un parcheggiatore. Scusi sa mica dov'è il garage 4C a birrosso. Non sono di qui. A tutti quelli che chiedono informazioni non sono di qui. Alla fine dopo tutte le macchine sono uscite finalmente vedi la tua. Laggiù un fondo tutta picchiata. Mi manca anche uno specchietto. Inizia a correre perché ti devi muovere. La rampa si sta alzando. Metti in moto a tutto fuoco. Volo di 30 metri. Finalmente sei sulla terra ferma. Puoi iniziare la tua vacanza. Anche se hai già finito tutti i sordi sulla nave non te ne frega niente. C'hai un solo pensiero che ti tormenta. Il ritorno. Ti logori nel cercare una soluzione. E alla fine la trovi. Sai Osa. Il ritorno lo fa a noto.